. Caterina Balivo pronta per la conduzione di I Vieni da me? L'ex conduttrice di Detto Fatto, questo pomeriggio alle 14.00. . 00 su Rai 1, debuterà con la prima puntata del programma. Come ospiti Cs A R A N N O Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Claudia Gerini. . Il format Vieni da me Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00. . 00 alle 15.30. La Balivo intervisterà, in diretta, i personaggi famosi e persone comuni che si racconteranno, o che daranno prova delle loro abilità. . . Il tutto culminerà in un giudizio da parte del pubblico, o in una sorpresa. Anche le persone a casa, saranno parte integrante del programma, poiché potranno partecipare ad un gioco telefonico o tramite i social. . . La sfida tra Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi. Questo pomeriggio si sfideranno Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, entrambi i protagonisti della fiction Il paradiso delle Signore, per stabilire, chi tra i due è il più affascinante interprete della fiction. . . Ospite Claudia Gerini. L'ospite più atteso di tutti è Claudia Gerini che si racconterà. . . L'attrice napoletana, negli ultimi mesi, è stata al centro del gossip per la fine della sua storia d'amore con Andrea Preti, ex concorrente dell'Isola dei Famosi. . . L'intervista si aprirà proprio con le motivazioni della Gerini sulla fine della relazione con Preti. . . Anticipazione intervista I due stavano insieme da un anno e mezzo, e tutto sembrava andare a gonfie vele ma qualcosa è andato storto. . . Qualche mese fa sulla rottura la Gerini aveva dichiarato. La nostra storia non è finita di punto in bianco gli avevo dato molti avvertimenti. . . . Per proseguire un rapporto bisogna essere in due, e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea, gliel'ho detto in faccia. . . Qualche settimana dopo questa dichiarazione, Novella 200 ha pubblicato le foto dell'attrice in compagnia dell'ex C.A.L.C.I.A.T.O.R.E. Giancarlo Pantano. . . . . . . .